salve a tutti rieccoci in un altro video con alexander alekin qui ci vorrebbe subito un botto di applausi contro efim bogoliubov il creatore tra l'altro della difesa bogo indiana oggi vediamo un po alekin con i pezzi neri ho scelto una partita diversa così vediamo anche un po il suo repertorio da giocatore estremamente aggressivo tattico qui ho utilizzato invece un apertura un po più solida la difesa più solida per esattezza non ce l'aspettiamo da un giocatore così energico così vigoroso come alekin cominciamo subito bogoliubov qui apre con d4 cavallo f6 siamo le difese indiane c4 la mossa più giocata attenzione qui che molto spesso non siamo abituati sempre alle difese indiane anche io stesso preferisco sempre dopo d4 rispondere con cavallo f6 particolare l'est indiano e la grunfeld però a volte il bianco si gioca cavallo f3 volendo rientrare in altre aperture può rientrare in un mondo system in un attacco torre quindi non dimentichiamo anche le linee minori ma in questo caso per l'ennesima volta dobbiamo adentrarci proprio nell'india c4 e va a controllare le due case in guida traversa arriva b6 dove il nero apre il fianchetto a ovest si ebbene si siamo in una difesa ovest indiana bogoliubov procede con cavallo in c3 e qui alfiere b7 attenzione questa viene chiamata ovest indiana o indiana di donna accelerata perché perché nell'ovest indiana il bianco procede con cavallo f3 sviluppa il cavallo di re non quello di donna lui volendo si poteva si può entrare anche una sorta di trasposizione con e6 e alfiere b4 in una in una nizio indiana ma alla fine questa è l'ovest indiana accelerata poco frequente ma i temi alla fine sono molto simili a quelli dell'ovest indiana tranne per il pedone e6 gli alfiere camposcuro dovrà aspettare più mosse più tempo per essere sviluppato bianco gioca f3 lo scopo è quello di prendersi tutto lo spazio al centro visto che il nero glielo sta concedendo ma questo è un po un concetto molto frequente nella filosofia di alekin lui stesso ha creato sappiamo contro e4 anche se l'ha giocata pochissime volte la difesa alekin con lo scopo di permettere al bianco che all'epoca veramente un'idea folle proprio da tribunale dell'inquisizione l'idea era quella proprio di concedere tutto lo spazio al bianco invitandolo a occupare il centro con i pedoni per poi dimostrare che si trattava in realtà di un errore quindi sgritolare il centro sotto gli occhi del bianco del giocatore f3 quindi ancora una volta alekin concede tutto lo spazio lascia spandere il bianco al centro lui va avanti comunque con d5 perché questo è comunque la struttura la struttura del gambetto di donna ricordiamola sempre c per d5 cavallo per d5 attirando sempre la forza dei pedoni bogolio non ci pensa due volte a spingere in e4 cavallo per c3 b per c3 qualche somiglianza con la grunfeld possiamo comunque notarla per certi aspetti cioè il cavallo qui che cattura in c3 il bianco che conquista il centro con i due pedoni cavallo per c3 e qui si riprende col pedone in b le soluzioni più frequenti infatti sono g6 ed e6 alekin ha scelto e6 quindi liberando questa diagonale per l'alfiere anche se non ci sono grandi case grandi opportunità di sviluppo il piano comune qual è alfiere e7 a rococorto vedremo che come al solito alekin ci stupirà alfiere in b5 con scacco assolutamente un approccio tenace da parte di bogolio cavallo in d7 parando lo scacco chi arriva cavallo e2 proseguendo quindi con lo sviluppo libera la strada per la rococorto un piano partita abbastanza semplice alfiere in e7 a rococorto per bogolio e qui arriva a 6 per stanare subito l'alfiere il nero comunque ancora non sta non ha un ritmo di gioco particolarmente intenso particolarmente alto deve ancora accelerare lo sviluppo dei pezzi ma proprio il punto di partenza della strategia di a parte di alekin è quello di scacciare gli attaccanti avversari questo alfiere viene risistemato in d3 e arriva adesso c5 così vediamo proprio tutta come ho detto la tenacia proprio di alekin c5 va ad attaccare subito il centro alfiere in b2 il bianco sceglie una linea forse anche troppo difensiva allo scopo di rafforzare ulteriormente poi questo alfiere si ritrova murato ma chiara l'intenzione di aprire questa diagonale donna in c7 e qui f4 in un modo nell'altro bogolibov decide di occupare il centro e fare di questo proprio il primo punto per il suo attacco cavallo f6 cavallo g3 qui si può risistemare pian piano tutti i pezzi vedendo anche che qui alekin non vuole svelare le sue carte quindi mantiene come potete vedere il real centro in attesa dello sviluppo dei pezzi avversari e qui comunque dal punto di vista anche prevalentemente strategico occorre pensare molto più in lungo ma arrivati a questo punto si può dire che il nero si qui cavallo in g3 ha lo scopo di difendere il pedone quindi sono sempre questi due attaccanti più vispi che mai ma comunque alekin deve iniziare veramente a fare sul serio le idee quali sono cercare di guagnare spazio coi pedoni in un certo senso ormai non può più nascondere le sue carte dovrà rivelare la sua intenzione per quanto riguarda l'arrocco e a tal proposito arriva h5 il nero ha già ideato di arroccare lungo centralizzare subito la torre poi come sappiamo si gioca molto spesso rein b8 parlando di arrocco lungo o rein b1 dalla parte del bianco per avere anche la massima sicurezza qui h5 i pedoni a est dal punto di vista del bianco potranno essere utilizzati devono essere utilizzati per distruggere l'arrocco avversario e chiamo quindi che siamo in una partita dei rocchi eterogeni e sarà fondamentale ancora una volta il concetto di tempo quindi cercare di arrivare al re avversario per disintegrare tutta la rocca forza tutto il castello dell'arrocco nel minore numero di mosse possibili donna e2 h4 ancora proprio per infastidire il cavallo e a questo punto donna e2 forse non è stata sicuramente la più precisa perché adesso il cavallo si ritrova costretto a tornare nell'ancolo comunque potrà essere un difensore ottimo all'occorrenza e adesso bisogna alzare i ritmi quindi trovare anche il modo di presentare di ideare almeno un po livello teorico dei temi tattici per andare subito a distruggere l'arrocco per fare questo servirà l'aiuto di tutti i pezzi cavallo h5 questa è la mossa di archi in questo modo si va a effettuare subito un doppio attacco tanto per cominciare come riscaldamento da parte del campione russo contro il pedone f4 quindi donna in g4 una buona soluzione difensiva arrocco lungo torri ne1 il bianco deve subito migliorare la posizione dei pezzi anche se notiamo già fra i due il re quello più esposto proprio dal punto di vista reale effettivo è quello il re bianco quindi già alec si può dire che ha un vantaggio posizionale rin b8 f5 minacciando qui di aprire subito le linee segue 5 con cui alec va a congelare quella che può essere una fastidiosa iniziativa avversaria d5 c4 non lascia scampo qui va subito a interrogare l'alfiere che bogorio ripone in c2 si libera diagonale con scacco alec in è stato uno dei più grandi attaccanti come ho detto anche negli altri video della storia degli scacchi viene paragonato da molti amiche il talma ci sono comunque delle differenze nel modo di attaccare alec in forse stato il migliore per quanto riguarda l'uso collettivo dei pezzi come una squadra riuscendo proprio a utilizzare poi più che altro anche i pezzi il gioco di tale l'ha chiamato offensiva pedonale visto che lui utilizzava i pedoni soprattutto per scardinare le difese quindi anche in maniera piuttosto brutale alec invece sapeva proprio coordinare perfettamente tutti i pezzi con delle combinazioni che hanno fatto tantissime vittime sempre dal punto di vista scacchistico si intende quindi alfiere c5 riesce a ottenere questa diagonale qui come una freccia proprio boom riesce a dare scacco al re cavallo f2 ottima interposizione e qui arriva g6 quale può essere l'intento da parte del nero lui è arrivato veramente qui a creare proprio un attacco devastante contro l'arrocco pedoni per pedoni pian piano va a ottenere sempre dei vantaggi qui f per g6 perché tanto poi le linee le appena il nero quindi bogolibov decide di stare al gioco e adesso torre in g8 sempre con le mosse un po più subdole piuttosto che riprendere passivamente in g6 tanto sarebbe stato anche un errore qui con f per g6 si fa altro che sprecare tutto un prezioso materiale d'attacco torre in g8 facendo leva sull'inchiodatura del pedone quindi rimane sempre attaccato può essere ripreso con la torre stessa e questo il calcolo ideato da alec prendere il pedone di torre attaccare la donna certo se possibile ma l'obiettivo rimane sempre a casa g2 in generale tutto l'arrocco o quello che rimarrà dell'arrocco alfiere in c1 e qui difficile comunque trovare le migliori difese per bogolibov alfiere in c8 dove si va subito ad attaccare la donna allora in f3 torre per g6 riprendendo senza alcun problema qui infatti vediamo che torre per g6 poteva assolutamente essere giocata si si poteva raggiungere anche per trasposizione di mosse alec ha preferito prendere un tempo in più alfiere in c8 quindi cercare di generare delle mosse forzate qui il bianco non ha scampo deve spostare la donna e quindi questo pedone può finalmente cadere reina h1 solite misure di profilasse attenzione qui quali potevano essere altri pericoli prendiamo una mossa neutrale ad esempio alfiere in d2 giocatore che ignora qualunque minaccia qui innanzitutto c'è una bella trappola alfiere in g4 questo è il problema principale quindi non tanto l'arrocco e il re ma la donna intrappolata qui non si può fare niente alfiere in g4 un campo minato quindi una bella gabbia costruita e attenzione perché il tema della trappola è molto più frequente di quanto sembra quindi occhio al raggio d'azione dei vostri pezzi mentre state valutando magari altri pericoli in questo caso bogolibo è stato molto preciso del resto come sappiamo ha giocato infatti due sfide mondiali contro alekin e gioca re h1 a scopo difensivo anche alfiere qui alfiere in d1 poteva essere molto buona tanto qui su alfiere in g4 certo una situazione pericolosa ma si poteva procedere anche con un cambio riuscendo a riguadagnare la torre a vari estremi strebili media alla fine non ha per g4 qui torre perne bianco riprende di alfiere e si riesce tutto sommato ma con posizione comunque dubbia sfavorevole al bianco si poteva riuscire a rimanere in partita efim bogolibov ha giocato rena h1 e direi che a questo punto possiamo finalmente si arriva la il rush finale da parte di alekin quindi effettuare i calcoli quali sono le abilità proprio da mostrare in questa fase da partita calcolare come chiude la partita tutte le varianti con sacrifici qui arriva cavallo in g3 fortissimo scacco due scelte prendere h per g3 la vediamo subito perché la risposta è stata la risposta di bogolibov oppure re in g1 e qui scattava sempre alfiere in g4 intrappolando la donna sceglie la via più semplice qui bogolibov h per g3 il nero riprende apre subito la corona h per la torre con uno scacco che poi sarà letale e qui comunque su re in g1 il bianco deve perdere un pezzo il cavallo torre per f2 anzi due pezzi poi torre per f2 posizione veramente pessima qui sempre la solita alfiere in g4 al massimo si può tentare qualcosa con di sé per attaccare la donna ma comunque il bianco deve perdere parecchio dal punto di vista del materiale oppure cavallo h3 questa sembra essere la difesa probabilmente si è proprio questa difesa più solida e sembra che il punto l'attacco del nero sia aggiunto in un punto fermo punto ormai di morte mentre in realtà qui si può tranquillamente procedere con una semplificazione ma tutto deve essere calcolato in maniera perfetta e direi che ha le chine stato la sintesi della perfezione che è riuscito a chiudere dando scacco matto nelle prossime tre mosse alfiere per h3 costringe non letteralmente ma questo punto si poteva anche abbandonare il bianco decide di accettare g per h3 e adesso chiudiamo in bellezza torre per h3 cade il pedone re in g2 forzata non ci sono altre soluzioni e qui torre in h2 scacco matto perfetto io in attacco proprio da manuale su come una lezione proprio da manuale su come disintegrare l'arrocco ad chi nella fine ci stupisce sempre ma fino a un certo punto ormai conosciamo tutte tutti i suoi questa è una delle mie preferite tutte le sue grandi opere d'arte nella fine trovare anche soprattutto come ho detto la difesa migliore è un'impresa visto che bogolio era tra i primi al mondo a quei tempi il cavallo in g3 scacco già nella fine per il bianco tutte le difese sono fallimentari non c'è molto da insistere di certo qui come visto re in g1 alfiere g4 non si prende il matto ma perdendo la donna la partita comunque persa quindi terminata qui alla trentesima mossa con uno spettacolare scacco matto con torre h2 perfetto gioco veramente vivace sempre la parte di alekin e noi ci vediamo al prossimo video questo verrà inserito come sempre nella playlist qualcuno me lo chiede ancora c'è un po di confusione nella playlist sulle partite dei campioni classici naturalmente partite top come altro possiamo riscrivere un capolavoro di questo tipo alla prossima